Io le ho pagate tutte. Buonasera. Tutto quello che ho fatto l'ho pagato. Buonasera, ministro abbiamo... Ma quale ministro? Beh, lei è ministro, no? Ma no, sono uno zimbello. Ma no, ma no. Dopo la figura che ho fatto ieri a Riete Unificate. No, intanto era solo Rai 1, eh. Non erano unificate? No, è comunque... Solo Rai 1? Eh, già tanto, eh. Eh, vabbè, perché ho ritornato a fare i tuoi. Sì. Per raccontare i gazzi miei. Che non è normale, vabbè, comunque... Eppure io di cose buone ne ho fatte tante. Ah, sì, quali? Eh, ce le ho tutte qua. Quali, eh? Eh, eh, ma le ho pagate tutte io, sa. Ma di cosa parla? Eh, perché prima non si ricorda quando ho detto che Dante era di destra. Ah, sì, è una gaffa. Non si ricorda che poi ho detto che Times Square era a Londra invece che a Nuova Delhi. No, che non era. Poi non si ricorda il capolavoro che Cristoforo Colombo seguiva i dettami di Galileo. Quelle gravi. Che non era ancora nato. Esatto. Perché Galileo è nato nel 300, nel 500, nel 700, nel 20. E queste sono le cose buone. Quelle sono le cose buone che ha fatto. E queste sono le cose buone. Vabbè, per sicuro. Perché poi ci sono le cose meno buone. Quali sono? Che le ha registrate, la bionda, con gli occhiali. Perché con gli occhiali registrava tutte. Eh, lo so, infatti lo sappiamo. Che per me, quando escono... Le cose che ha registrato. Cade l'Europa. Oh là là. Cade l'Europa. Ho capito, ma allora scusi, perché non si è dimesso? E niente, piangi di nuovo. Ma io mi sarei dimesso. Eh, ma perché non l'ha fatto? Ma quella bionda voleva umiliarmi. Ah, la boccia? No, la meloni. Ma come la meloni? Perché quella è cattiva. No, la meloni. È cattiva, ho più dei comunisti. Eh, addirittura, dai. Ma che figura di merda mi ha fatto fare al TG1. L'ha mandata lei. Perché la meloni è più che cattiva. Vabbè, calma. È proprio una grandissima. No, cosa? Quello che le ha detto De Luca. Ah, tutto attaccato. Ho capito, vabbè. Torna Fratelli di Crozza. Da venerdì 27 settembre in prima serata sul 9 e in streaming su Discovery Plus.